Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo aggiornamento su bitcoin la situazione è la seguente, ho aggiornato tutta la centratura e dato che siamo arrivati al secondo t più 4 ovvero secondo semestrale che è già arrivato a macinare 55 giorni da qui è partito poi il secondo, il nuovo t più 2 qui lo metto a posto in questo modo abbiamo avuto un primo t settimanale da 9 giorni e un secondo che è arrivato a 8 e potrebbe ancora andare a chiudere in realtà a 11 vediamo, ok, in termini di divergenze continuiamo ad avere divergenze di continuazione rialzista non ci sono divergenze ribassiste in questo momento a parte quella che ci ha portato a scendere higher highs, non l'ho segnata, lower highs, ok ma come vi dicevo la tendenza è a rialz quindi abbiamo avuto, come d'attese, prima la nostra chiusura di inverso successivamente stiamo andando a farlo, abbiamo fatto su questo minimo la chiusura del nostro t più 1 abbiamo le condizioni per la chiusura di un t più 1 qui? ricordiamoci che si tratta di 3 sottocicli inferiori a ribasso ovvero se è un t più 1 abbiamo di t meno 1, t meno 2, ovvero 2 giorni a ribasso questo minimo è inferiore a questo, questo, questo e anche a questa giornata abbiamo più che la chiusura di un t più 1 per cui tutto quadro, d'accordo? per cui che cosa aspettarsi? a questo punto il discorso è che se qui abbiamo chiuso il nostro t più 2 da qui deve partire un secondo t più 1 ricordatevi sempre che prima della partenza anche soltanto di un bisettimanale può esserci sempre un accordo, quindi fate sempre molta attenzione a questo genere di cose e cosa ci aspettiamo per quanto riguarda il nostro inverso? ci aspettiamo che dopo aver fatto anche in questo caso un t più 1 già ribassista e un t più 1 che peraltro può aver lanciato appunto un t più 3 perché abbiamo avuto ben 15 giorni sotto questo massimo qua questo a 12.100 qui abbiamo avuto 12.080 e vi ho già segnalato quindi molta forza a rialzo, tendenza a rialzo qui siamo andati in violazione per cui 1 abbiamo avuto la condizione sufficiente per la partenza di un t più 3 inverso nuovo il secondo a partire da qua questo è il primo e questo sarà il secondo altra cosa, tutto si è vincolato a rialzo perché si è vincolato a ribasso di indice da cui il trend principale continuerà ad essere rialzista e dovremo ribassi solo esclusivamente quando avremo una chiusura di cicli perlomeno t o t più 1 tipo qua e tipo qua target? beh, prima di tutto dovremo ritornare sopra questo livello a 12.305 e poi vedremo d'accordo? vi ringrazio ancora per l'ascolto e decidete sempre volete rimanere spettatori oppure diventare indipendenti e fare le vostre analisi con la vostra testa su bitcoin se vi interessa sapete che io ho due gruppi trader su facebook mi trovate facilmente e lascio un link nella descrizione della giornata stessa vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida nottata grazie a tutti